La residenza Villa Franca a Cerreta di Omignano in festa per i 100 anni di nonna Giuseppina Corrente. Villa Franca è la confortevole struttura situata a Omignano che ospita decine di anziani provenienti anche da altre località. La festa di compleanno è stata organizzata per una delle ospiti più anziane. Sono state 100 le candeline che hanno fatto da luminoso contorno ai festeggiamenti dedicati al compleanno di nonna Giuseppina Corrente classe 1922. Un momento importante quello vissuto dalla nonnina originaria di Perito. Una tappa importante che nonostante le sue 100 primavere la vede oggi in buona forma presso la confortevole struttura dove l'anziana signora vive da circa tre anni. I suoi occhi pieni di luce e di gioia hanno fatto emozionare tutti i presenti. Nonna Giuseppina è la testimonianza di come una donna nonostante l'età possa ancora donare solarità, felicità e gratitudine alla vita ma il suo ringraziamento più grande. La nonnina lo rivolge agli operatori di Villa Franca che si prendono cura di lei ogni giorno, ai suoi familiari che sono sempre presenti, al sindaco di Perito Carlo Cirillo, sindaco del suo paese, al sindaco di Omignano Raffaele Mondelli, sindaco del comune dove è situata Villa Franca e al presidente della Proloco Perito Antonello Marcelli per le targhe ricevute. Per i relativi auguri è stata l'intera struttura ad onorare Giuseppina nel giorno del suo compleanno nel rispetto delle normative relative al covid-19. La simpatica nonnina ha quattro figli, otto nipoti e otto pronipoti. Instancabile e lavoratrice nella vita dedicato se stessa alla sua famiglia, appassionata delle tradizioni cilentane, della pasta fatta in casa, spesso la prepara per tutti gli ospiti della struttura degustandola in loro compagnia. Un sincero augurio a nonna Giuseppina, da tutti gli operatori della struttura di Villa Franca e dalla redazione di Cilento Channel. Sono contenta di questa bella festa che avete fatta tutti, tutti, collaboratori, operatori, tutti comuni. E ringrazio a tutti, di cuore. Bacchia a tutti. Mi dite mille frammenti, mi si trova 100 anni.